Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo In quel tempo, salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso su un letto. Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, «Coraggio, figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati». Allora alcuni scribi cominciarono a pensare, costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse, «Perché mai pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa dunque è più facile dire, ti sono rimessi i peccati? O dire, alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati, alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va a casa tua». Ed egli si alzò e andò a casa sua. A quella vista la folla fu presa da timore e rese gloria a Dio, che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola di Dio. Grazie. 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 Grazie.